Non si arresta l'attività della Polizia di Stato di Caltanissetta per quanto riguarda la prevenzione e la repressione dei reati. In totale, nel territorio della provincia nissena, sono stati eseguiti tre arresti, denunciata l'autorità giudiziaria a 18 persone, eseguita 26 perquisizioni e sequestrato Ashish e Marihuana. In particolare, fra i tanti reati contestati, un 23enne è stato arrestato per tentata rapina e furto aggravato. Due persone, un uomo di 68 anni e un 35enne, sono stati arrestati dovendo scontare il primo un anno e dieci mesi di reclusione per omissione di soccorso e il secondo sei mesi di reclusione per resistenza a pubblico ufficiale. Un 66enne è stato denunciato all'autorità giudiziaria per lesioni personali, un 53enne per maltrattamenti in famiglia, un 18enne per resistenza a pubblico ufficiale, un 50enne sottoposto agli arresti domiciliari, non trovato in casa, è stato denunciato per evasione. Tre persone sono state denunciate per minaccia e due ventenni sono stati denunciati per reati contro il patrimonio. Sono invece 5 le persone trovate in possesso di Ashish e Marihuana per uso personale segnalata alla prefettura, mentre nel corso dell'attività di polizia giudiziaria sono state eseguite 26 perquisizioni personali.